Carissimi amici, eccoci da una nuova puntata del Cicco di Catechesi dedicato al Catechismo di San Pio X che è giunta alla parte sacramentare, l'ultima parte, la vita della grazia, quindi i sacramenti e poi la preghiera. Adesso dovremo affrontare oggi sicuramente il sacramento della Cresima e forse facciamo in tempo a cominciare l'Eucaristia. Oggi è il 3 di luglio, sarebbe un mio ardente desiderio per non lasciare le cose in sospese, considerando che poi ad agosto ci sarà un mese di stop dalle attività apostoliche, riuscire entro il mese di luglio sia a terminare il Cicco di Catechesi sul Catechismo di San Pio X che quello sulle Catechesi Bibliche dell'Antico Testamento, per cui si vorrebbe dire che l'anno lo finiamo alla grande, magari intensificherò un pochino gli incontri, ci proverò senza correre, però speriamo di riuscirci. Però se dovessi andare troppo di corsa fa niente, provvediamo con l'anno prossimo. Quindi soltanto una piccola premessa che è questa. Nel discorso dei sacramenti ci sono delle cose che sono di natura dogmatiche, quelle sono immutabili nel corso della storia. Invece ci sono delle cose, già da questa sera le vedremo, attinenti alle leggi della Chiesa sull'amministrazione dei sacramenti che quelli possono mutare nel corso del tempo. E quindi sarà mia cura, per esempio anche le norme sul digiuno egaristico, quando ci arriveremo, oggi sono mutate. Quindi quando arriveremo dinanzi a cose che attualmente hanno cessato di essere in vigore, perché la legge della Chiesa è cambiata, io lo dirò. Certamente, niente pieta, sono una persona, perché vedremo che le cose sono tutte quante mitigate. Se uno con una sua devozione personale, per carità, vuole mantenere antiche consuetudini, perché le ritiene maggiormente edificanti, libero. Però è evidente che occorre sapere che la legge della Chiesa adesso è mutata e quindi per stare nella volontà di Dio occorre osservare la legge della Chiesa così come oggi. Il po' di più è sempre possibile, nemmeno no, né ieri né oggi. Allora, che cos'è la cresima o confermazione? La volta scorsa abbiamo terminato la trattazione del battesimo. Il secondo sacramento che il Catechismo segue è appunto la cresima. I sacramenti di iniziazione cristiana, lo sappiamo che sono il battesimo, la cresima e l'eucaristia. La cresima o confermazione è il sacramento che ci fa perfetti cristiani, soldati di Gesù Cristo e ce ne imprime il carattere numero 304. Quindi, perfetti cristiani, fondamentalmente perché parte il fatto che completa, diciamo così, quanto iniziato dal sacramento del battesimo e peraltro viene fatto proprio dal candidato alla cresima. Quindi, in quel momento, la vita cristiana è perfezionata nella persona che viene cresimata. E poi si diventa anche soldati di Gesù Cristo. E questa è un'espressione oggi un pochino abbandonata. Oggi si preferisce dire testimoni. Io, prima di mettere nel dimenticatoio questa espressione, è chiaro che è una milizia un po' particolare la nostra. Non è che non andiamo in giro armati con il mitra o con gli scudi o con le lance. Non ci andiamo né oggi, non ci andavano neanche ieri. Però la vita cristiana è una milizia. Milizia. È una milizia per ed è una milizia contro. È una milizia per la verità, quindi a difesa della verità, del Vangelo. È una milizia per la santità. Quindi noi combattiamo la lotta scetica per acquisire le virtù, per crescere in grazia. E poi combattiamo per non perdere la fede contro i nemici della nostra salvezza e per non fare naufragio della fede. E poi combattiamo per difenderla e per diffonderla la fede, anche a costo del martirio. Non ci sono pistole e rivoltelle, certamente, però ci sono armi. È un combattimento più impegnativo di quello combattuto con le armi materiali dai militari. Qual è la materia della cresima? Numero 305. Matera della cresima è il sacro crisma, cioè olio misto con balsamo consacrato al Vescovo Giovedì Santo. La cresima è il secondo dei tre sacramenti in cui si usa il crisma, insieme al battesimo e all'ordine sacro. Il crisma chiaramente si adopera anche sia nella consacrazione degli altari che nella consacrazione delle chiese. E anche qui dobbiamo dire un tempo, perché adesso non si usa più, ahimè, dei vasi sacri, calice e patena in particolare. È l'olio delle consacrazioni. Quindi quando si usa il crisma bisogna pensare che c'è qualcosa che si consacra e che rimane un qualche cosa che perdura nel tempo, nel caso poi dei sacramenti dati agli esseri umani, assolutamente indelebbi. Nel senso che una chiesa può essere sconsacrata, ma un essere umano no. Ecco, qual è la forma della cresima? La forma attualmente è cambiata, quindi la sostanza rimane ovviamente la stessa, ma oggi la forma della cresima, quando si fa cresimare si sentono queste parole, nome, quindi Leonardo, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. E mentre dice queste parole il Vescovo traccia un segno di croce con il dito pollice unto nel crisma sulla fronte del candidato e poi la pace sia con te. La forma ai tempi del catechismo dell'esempio decimo, quell'antica, era ti segno col segno della croce e ti confermo col crisma della salute nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Chi è il ministro della cresima? Il ministro della cresima è il Vescovo e straordinariamente il sacerdote che ne abbia facoltà dal Papa un tempo. Anche qui bisogna correggere perché oggi la facoltà di poter amministrare la cresima a sacerdoti che non hanno la pienezza del sacerdozio, quindi dell'episcopato, viene conferita dal Vescovo. Io un paio di volte nella mia vita ho due o tre volte amministrato questo sacramento appunto perché il Vescovo una volta, quando c'era il Covid, queste cose qui, che c'erano delle difficoltà, diede l'autorizzazione, non hanno addirittura tutti quanti i parroci e poi per motivi pastorali insomma in questa parrocchia. Quindi oggi è sufficiente il Vescovo ad autorizzare un sacerdote ad amministrare questo sacramento. Chiaramente nessuno può amministrarlo lecitamente se non è autorizzato dal Vescovo. Il Vescovo come amministra la cresima? Il Vescovo stese le mani sopra le cresimanti invoca lo Spirito Santo e questo è rimasto tale e quale anche adesso. Quindi la sostanza è rimasta tale e quale. Poi col sacro chisma unge in forma di croce la fronte di ciascuno pronunciando le parole della forma. Quindi da un leggero schiaffetto dicendo la pace sia con te e alla fine benedice solennemente tutti i cresimanti. Anche lo schiaffetto, che evidentemente non è al sustantiam, però quello schiaffetto significava come dire, guarda che sei il soldato adesso, quindi sveglia. Era uno schiaffetto liturgico. Ma non vorrei insomma che ci fosse pure la paura che per uno schiaffetto dovevano denunciare con la mentalità che ci sta oggi in giro. Però non si usa più. Io ero schiaffetto piano piano. Era un cosetto proprio insomma simbolico. Poi ce l'ha manco male. La sostanza però evidentemente è rimasta integra perché non può cambiare nei sacramenti. Il vescovo stende le mani, il segno di croce e poi lo scambio della pace dato dal vescovo. 309. In che modo la cresima ci fa perfetti cristiani e soldati di Gesù Cristo? La cresima ci fa perfetti cristiani e soldati di Gesù Cristo dandoci l'abbondanza dello Spirito Santo, cioè della sua grazia e dei suoi doni, i quali ci confermano o rafforzano nella fede e nelle altre virtù contro i nemici spirituali. Quindi c'è un'effusione dello Spirito Santo come a Pentecoste che rafforza la grazia battesimale e conferisce i sette doni dello Spirito Santo che dovremmo ricordare. Io l'inomio, sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timor di Dio che ci confermano o anche rafforzano nella fede e nelle altre virtù, speranza, carità e le virtù cardinari contro i nemici spirituali. Quindi da quel momento possiamo vivere come cristiani e possiamo combattere il buon combattimento della fede, come lo chiama San Paolo. Ora, qui c'è il numero 310 che, ahimè, questo purtroppo è andato obsoleto e questa è proprio una disgrazia per quanto mi riguarda che sia andato obsoleto. Io, se posso esprimere come c'è libertà di pensiero, quindi penso di sì, auspico che quello che viene scritto in questo numero possa presto tornare ad essere messi in pratica. E cioè, a quale età è bene ricevere la cresima? È bene ricevere la cresima all'età di sette anni circa, perché allora sogliono cominciare le tentazioni e si può abbastanza conoscere la santità e la grazia di questo sacramento. Ora, teniamo presente che i sacramenti, come la Chiesa ci insegna, operano ex opero e operato, quindi nell'anima operano anche quando una persona non fosse pienamente consapevole. Faccio un esempio per far capire. In Oriente, guardate che in Oriente gli ortodossi sono scismatici, nel senso che non riconoscono il primato Petrino, hanno qualche altra, diciamo così, pecca da un punto di vista dottrinale, il figlio occhio per quanto riguarda lo Spirito Santo, chiaramente non riconoscendo il primato Petrino, non riconoscono i dogmi di fede definiti dal Papa, in particolare l'Immacolata e l'Assunzione, ma per il resto hanno tutti i sette sacramenti, hanno un vero sacerdozio, hanno un vero episcopato, quindi sono dentro, come dire, sostanzialmente dentro, per questo che si chiamano ortodossi, dentro l'ortodossia. E loro amministrano battesimo, comunione e cresima all'infante, tutti e tre insieme. Come si fa per noi quando viene battezzato un adulto? La comunione gliela danno con un cucchiaino, piccolo piccolo, di sangue consacrato, un po' come si faceva un tempo con il battesimo, che si metteva in bocca al bambino neonato un cristallo di sale come primo nutrimento sacro. E quello è veramente battezzato, comunicato e cresimato. Poi crescendo quei doni saranno visibili e si svilupperanno. Quindi non è proprio corretto pensare specialmente per questo sacramento, che più aumenta la consapevolezza e più si è efficace. Insomma, per quanto riguarda la crisi, perché insomma, la razio che c'era un tempo, anche per il battesimo, e che prima si ricevono e meglio è. Allora, la Chiesa Latina non ha optato, a mio avviso opportunamente, per seguire la tradizione orientale. Quindi tutti e tre i sacramenti nel momento del battesimo. Li ha procrastinati, però capite, se il battesimo lo fai entro i primi dieci giorni, se la comunione addirittura a San Pio X consentì di farla, prestissimo. Lo stesso, si poteva fare la comunione anche la comunione a sette anni. E addirittura Padre Pio a quei tempi, cioè addirittura la faceva qualche volta a cinque anni. Perché il principio era, vedete qualcosa dice, a quell'età cominciano le tentazioni, e si può abbastanza, a sette anni cominciano le tentazioni, e si può abbastanza conoscere la santità e la grazia di questo sacramento. Purtroppo a sette, otto anni, quel maledetto, maledetto e maledetto, che si chiama Satana, comincia a circuire i fanciulli. Perché appena c'è l'uso della ragione, quindi quella rudimentale capacità di discernere il bene dal male, quindi l'uso della volontà, quello comincia a dargli il tormento. Per questo che era Madonna Fatima, disse del piccolo Francesco che sarebbe andato in cielo, era un bambino di sette, otto anni, adesso mi ricordo, però doveva già dire molti rosari. Perché? Perché aveva già fatto una quantità di piccoli peccati, presumibilmente, per espiare i quali ci vogliono molti rosari. Ah, che succede? Se tu procrasti nella... Ma in certe diocesi mi dicono, qui no, grazie a Dio, ma 14 anni, 16 anni, addirittura 18 anni la cresima, con l'idea che apparentemente sembra anche una bella... Diceva, questo è il sacramento, appunto la confermazione, quindi uno deve avere questo sacramento convinto di fare una vita cristiana, quindi più è grande più è convinto. Io vi confesso che in passato, qualche volta, ci ho pensato pure io a questa cosa qui, perché sembrerebbe un discorso ragionevole. E però bisogna dire altro aspetto. Tu farai arrivare questo a 18 anni senza la forza che viene dall'effusione dello Spirito Santo per combattere. Non è detto che non peccherà, ma sicuramente c'è la rampa di forza in più. Se tu lo procrastini, forse sarà più consapevole, forse crescendo. Però tu l'hai lasciato per anni con un'arma in meno. Vale la pena? Così vale la pena procrastinare la comunione? La linea di San Pio X e dei Santi era appena il bambino c'è una formazione rudimentale, chiaramente, che capisce che è quella Gesù Cristo, che sa distinguere il piano, il piano romano dal pane consagrato, ma questo lo vedremo quando parliamo dell'eucaristia. Faglia questa comunione. Perché lo difenderà questo qui, lo aiuterà, la comunione accrescerà. Grazie, la comunione preserva, non soltanto rimette le colpe quotidiane, ma preserva dal commettere i peccati. Che fai? L'apocrastine nel tempo? Questa tendenza che c'è adesso nel... Guardate adesso, nei matrimoni che si sposano a 40 anni, tra l'altro preceduti da 5, 10, 15 anni di convivenza, i figli portano le fede, tutte queste cose qua che si vedono adesso in giro. Ma Cristo è tutto grande pazzie. Pazzie. Io spero, mi pare che ci sia qualche diocesi da qualche parte, che sta un po', perché adesso nell'attuale disciplina della Chiesa c'è un margine di discrezionalità, non indifferente da parte delle Chiese locali. ecco perché in certe parti hanno addirittura abolito i padrini di battesimo, i padrini di decresima, cioè perché il Vescovo, quindi d'accordo con il clero, con i suoi organismi consultivi, su questi aspetti disciplinari può legiferare. e quindi ci si può trovare in situazioni che in una diocesi X succede questo e in un'altra succede quest'altro. buono o cattivo che sia questa prassi, può piacere o può non piacere, ma adesso è così. Io personalmente sono del parere che prima si amministra nei sacramenti meglio. Certo che c'è un problema, oggi c'è un altro grosso problema, però, capite? Grosso problema. Il problema è questo, ed è quello che muove alcuni Vescovi, per esempio, a protrarre un pochettino il tempo di amministrazione della Cresima. Qual è? Che se tu te la Cresima, ragazzina, se la comuni la Cresima ha sette anni, con queste famiglie scellerate che stanno in giro, che in Chiesa ci mettono a piede mai, che succede? E questo è un problema purtroppo, lo riconosco. grosso. Fino a quando c'è il Catechismo, che c'è una specie, come dire, un mezzo ricatto, cioè se non vengono mai a Messa, non gli faccio fare la comuni la Cresima. Ma se tu gli dai la comuni la Cresima a sette anni, ora, perché nel 1900, quando è stato scritto 5 circa, il Catechismo è un esempio decimo, a Messa ci andava il 90% della gente, non esisteva che tu non andai a Messa la Domenica. Cioè i 5 progetti generali della Chiesa li osservavano quasi tutti in Italia. Ma tu, nel 95%, che io sono parroco da 20 anni, ho fatto solo questo nella vita, cioè spariscono tutti dopo la Cresima. se li fai modici, tu gli dai un aiuto per combattere, un aiuto per combattere, ma questi poi perderanno pure l'aiuto ordinario, questi non fanno più la comunione, non si confessano più. Capite? Per cui oggi è veramente un problema grosso, perché da un lato c'è questo principio che prima li prendi i sacramenti e meglio, ma questo funziona se c'è una famiglia alle spalle. Se c'è una società alle spalle. Oggi la società non ne parliamo, perché dalla società bisogna dipendersi oggi, e pullurano, grazie a Dio, le scuole parentali, perché... come fai? Io veramente non lo so se fossi genitore adesso, a che santo uno si deve votare? Ma uno non può lasciare un figlio in balia di tutto quello che c'è in giro adesso. Non si può. Dice, ma lo metti dentro una campana di vetro, poi non sta con gli altri ragazzini. Io le capisco queste cose qui, non è che non le capisco, ma come fai però a buttarlo dentro certi ambienti? Dove la corruzione è sicura, non direi, ma forse non sarà. No, è al 100%. E tu dai la cresima al ragazzino che i genitori non mettono mai piedi in chiesa, mai, quello andrà da sola a messa la domenica, a sette anni. Ma dove? Capite? Per cui... puntualizzo queste cose perché è un problema grosso oggi, proprio grosso. Cioè, anche l'amministrazione dei sacramenti, chiaramente, la prassi ecclesiale è stata pensata per un contesto sociale differente, di cristianità diffusa. non è che c'era il concordato con lo Stato laico. Sì, poi ti faccio insegnare religione, però la religione non la puoi insegnare entro a certi limiti, quindi non dico storia delle religioni, ma quasi, perché l'insegnamento della religione, secondo adesso le norme, non può essere catechismo fatto a scuola, ma no. Sono problemi. E la soluzione non è che c'è stata. Io non è che c'è la soluzione. Ci fanno le discussioni sulle discussioni nelle assemblee pastorali, nelle riunioni tra preti e vescovi. Quindi è un problema grosso questo qui oggi, però grossissimo. Fino a quando qui non c'è una svolta, quella svolta che tutti aspettiamo, quest'era nuova, questo trionfo del cuore immagato di Maria, con questo cambio di rotta dove soltanto Dio ci può mettere le mani, perché non c'è possibilità di ritorno indietro, né a livello civile, né a livello ecclesiale su certe cose. Non c'è. Almeno io non la vedo, il verbo essere non si può usare. Se qualcuno la vede, sono tutto orecchie, d'accordo, per intraprendere qualunque iniziativa evidentemente possibile e lecita per remare in questa direzione. Da un punto di vista ecclesiale, perché io sono un prete. Poi se qualcuno sa come fare dal punto di vista civile e politico, sono tutto orecchie anche per lui. Io sinceramente non la vedo. Nessuna possibilità. E non voglio fare il pessimista. Noi abbiamo la carta Domine di Dio, che certamente per presto tardi sarà sguinzagliata, perché non possiamo uscire fuori da questa situazione. Altrimenti. Però rimanga il principio. Quindi quando una famiglia c'è, se si riesce, pregando, supplicando, trovando, a far amministrare il sacramento, prima possibile, chiaramente poi, tu ti devi prendere la gravissima responsabilità come genitore di andare tu davanti a tua figlia o tua figlia, tu pregarci dentro casa, tu portarlo in chiesa, tu educarlo cristianamente, tu preservarlo dal male. A queste condizioni, se si trova una flessibilità, una possibilità, prima si amministra i nostri sacramenti, è meglio è. Ora, chi riceve la gravissima, quale disposizione deve avere? Numero uno, deve essere in grazia di Dio. Vedete, e se ha l'uso di ragione, quindi sta dicendo, sottintendendo, che quello che fanno gli orientali si può fare, perché anche questo sacramento potrebbe essere dato anche senza l'uso di ragione. Ma se ce l'ha, deve conoscere i misteri principali della fede e accostarsi al sacramento con devozione, profondamente compreso di ciò che il rito significa. Quindi aver fatto un po' di catechismo e prepararsi a riceverlo, quindi con la devozione e con la comprensione di ciò che il rito significa. Ed è quello che si cerca di fare nella preparazione alla cresima. Scusate. Ok, andiamo avanti. Che significa il sacrocrisma? Il sacrocrisma con l'olio che si espande da forza significa la grazia abbondante della confermazione. La forza, l'olio, come l'olio dei catechomeni. E col balsamo, il crisma è un olio profumato, appunto è un olio mischiato con una sostanza profumata, un profumo, un aroma, che è odorosa e preserva dalla corruzione. Significa il buon odore delle virtù che il Cresimato dovrà possedere fuggendo la corruzione dei vizi. Voi sapete che in cielo restano i profumi. Quando appare la Madonna c'è il profumo di rose, quando appare Padre Pio lo stesso. Quando invece arrivano i diavoli c'è la puzza che in nausea abbonda, c'è la puzza del zolfo. Alcuni santi che c'erano il dono di sentire col naso che un'anima stava un peccato mortale, sentivano la puzza simile a quella di un cadavere in decomposizione. Quindi pensate che bello. Perché è così. Il vizio puzza, fa schifo, fa librezzo, fa vomitare. Ecco. Se nel nostro cuore noi ci venisse da vomitare solo a pensarli a certi vizi, specialmente quelli più graditi a certi personaggi viziosi, ecco, staremo sull'ottima strada. Proprio il vomito assoluto. Perché questo fanno. Come tutti si rianziano una cosa che è fatalmente schifo, che puzza talmente tanto che non ci resisti che ti riava la vomitare. Che significa l'unzione che si fa sulla fronte in forma di croce? L'unzione che si fa sulla fronte in forma di croce significa che il cresimato da forte soldato di Gesù Cristo, questo è bellissimo, dovrà portare alta la fronte senza arrossire della croce e senza aver paura dei nemici della fede. San Tommaso lo spiega bene, il segno della croce della cresima si fa sulla fronte perché la fronte è la serie della vergogna. Quando noi arrossiamo, no? Ma noi non dobbiamo arrossire. Arrossire della croce, attenzione, arrossire della croce significa vergognarsi di essere cristiani, vergognarsi della fede, vergognarsi di presentarsi come tale. Ah, io non lo dico a nessuno che vada a messa se no poi mi prendono in giro. Ah, io non me la faccio il segno della croce e lì a menza sul lavoro se no poi pensano che so a bigotto. Ah, io sto sul treno a raccontare molte volte queste cose qui e Rosario lo dico a mente oppure conto con le dita perché se prendo la corona poi chissà che pensano. Ma quando mai? Noi dobbiamo vergognarsi se facciamo qualche qualche peccato non si se ci mostriamo cristiani. Argomento femminile Ah, io vorrei tanto portare andare in chiesa a capo verato però poi diventa il berzallo di tutti e prendono tutti quanti in giro. E allora? E allora? Ah, io so a prete che vorrei mettere la veste dall'aria però poi divento la favola di tutti. E allora? Allora? Preferisci essere la favola di tutti quanti gli uomini o essere la favola dei diavoli che si sbudellano da ride quando c'è qualche sacerdote che non veste in maniera consona al suo essere uomo di Dio e alla sua altissima dignità. Vedi tu? Ah sì, io con la fidanzatina viviamo casti però non lo diciamo troppo in giro se no ci prendono tutti in giro. Mi prendono in giro. Veramente si deve vergognare e deve piangere lacrime di sangue chi non è casto chi non arriva per girare il matrimonio. Questi si devono vergognare e tanto. Possiamo continuare, eh? e senza avere paura dei nemici della fede nessuna paura di questi qui, eh? La paura non c'è. Se siamo ancora imperfetti come dice San Giovanni c'è la duplice forma del timore di Dio il timore servile e il timore filiale cioè temo Dio perché se la faccio troppo grossa rischio l'inferno oppure temo Dio perché se faccio i peccati gli dispiaccio questo è meglio del primo. La forma più aduta non lo temo proprio perché ci penso manco manco per niente di fare qualcosa che gli dispiace lo amo e cerco di amarlo sempre e dovunque e dappertutto e basta. Questa è la perfezione. Ma paura dei nemici della fede nessuna paura e se mi ammazzano e se mi ammazzano la cresima mi dà la grazia e se la forza di morire martire da buon soldato perché i soldati di Cristo non ammazzano il prossimo ed è la battaglia che noi combattiamo ma sono pronti a farsi ammazzare per amore del Signore o per amore della virtù tra qualche giorno alla festa di Santa Maria Coretti tutti quanti gli impuri e gli impudici non dimentichino mai questa bambina che si è fatta ammazzare per non commettere un atto impuro ammazzare in maniera violenta 314 che significa il leggero schiaffo che il Vescovo dava al Cresimato dava potremmo dire significa che questi deve essere disposti a soffrire per la fede ogni affronte ogni pena no? un segno sarebbe bene che ci stesse perché per la fede qualche cosa la soffriremo se ce l'hai la fede qualche cosa la soffrirai se fai il prete cercando di farlo beh insomma vi assicuro che c'è un discreto repertorio di cose da soffrire tante ma anche se fai il cristiano ci sarà tanto da da soffrire specialmente in questi tempi esempio di giovani famiglie ho conosciuto io aperti alla vita al terzo e al quarto figlio ci sono un ventaglio di offese che vanno così la classica a che fate figli come conigli la seconda un po' meno becera un po' meno proprio inqualificabile perché la prima fa proprio vomitare la seconda è a siete incoscienti e la terza non me la fate di integralmente se no si manca alla carità si viene epitetati come appartenenti a un movimento ecclesiale che è noto per perché le famiglie che ne fanno parte sono abbastanza prolifiche speriamo ovviamente per motivazioni sante e soprannaturali quindi ci sono questa gamma di insulti quindi oltre che uno si sacrifica perché la perizia alla vita è un sacrificio ti prendi poi gli insulti da parte di chi dovrebbe incoraggiarti o aiutarti questo è prassi normale questo qua oggi vabbè una donna che comincia a vestirsi decentemente sembri una suora non dico le povere ragazzine ne conosco poche di quelle che hanno il coraggio di sfidare le mode perché per una ragazzina ci vuole oggi proprio la virtù eroica anche per quelle un pochino più grandicelle e a volte sono anche i mariti insomma che cominciano a dire che sei diventata una suora anziché essere contenti insomma che la sposa comincia a diventare un mistero per il prossimo e un mistero svelato soltanto per il marito come dovrebbe essere no sembra quasi che siano contenti che la moglie sia un mistero svelato anche per il prossimo queste sono cose io personalmente non ci arrivo però sarà un problema di ritardo mentale da parte del sottoscritto no speriamo ora nella cresima ci sono i padrini nella cresima ci sono per gli uomini i padrini e per le donne e le madrine che debbono essere buoni cristiani per edificare assistere spiritualmente i cresimati ne ho già parlato per quanto riguarda il battesimo ancora di più per la cresima perché la cresima è oggi ancora di più attenzione alla scelta dei padrini perché si pecca gravemente se si chiama a fare il padrino di cresima una persona che è indegna quindi che non è un buon cristiano e che quindi non può assumersi quell'ufficio ma pecca mortalmente non soltanto chi lo assume non dovendolo fare ma anche chi lo chiama l'ho già detto e con questo basti per la cresima vedo che ci abbiamo un pochino di tempo possiamo introdurre l'eucaristia perché l'eucaristia è come dire articolata in una ampia sezione del catechismo in esempio decimo per cui è come dire è affrontabile per sezioni allora c'è innanzitutto il paragrafo 1 che parla del sacramento dell'istituzione del fine il secondo che parla della presenza reale di Gesù nell'eucaristia il terzo la santa comunione le disposizioni l'obbligo e gli effetti e infine il santo sacrificio della messa quindi c'è una bella panoramica completa sintetica e profonda andiamo a vederli uno per uno numero uno che cos'è l'eucaristia l'eucaristia è il sacramento che sotto le apparenze del pane e del vino contiene realmente corpo sangue anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo per nutrimento delle anime prima bellissima definizione apparenze apparenze tecnicamente si possono chiamare anche specie non è che ci vuole tanto una cosa che appare è diversa da una cosa che è facciamo facciamo subito un esempio un attore che interpreta un criminale in un film quello non è un criminale è un attore ma nel film appare come un criminale anche è vero se leggete ogni tanto qualche intervista a qualcuno che si è messo a fare certe serie un pochino splatter un pochino veramente crude poi se qualcuno non incontrava in strada si è messo a paura ho sentito l'intervista di qualcuno di questi qua perché dice mamma mia il boss si è messo paura perché quello nel film nella finzione appariva come un criminale ma non lo è ecco però l'apparenza l'apparenza inganna si dice perché l'apparenza è abbastanza convincente no per questo la persona che lo vede fuori dal set si mette paura mi si perdoni questo esempio un pochino feriale però il problema è questo qui che nell'Eucaristia le apparenze mai come in questo sacramento è vero che le apparenze ingannano perché apparentemente non succede proprio niente i sensi sono proprio completamente al buio come dice et si sensus deficit ad firmannum corsincerum sola fides sufficient scrive il famoso pangelingo di San Tommaso il senso deficit manca non ce la fa sola fides sufficient basta la sola fede anzi ci vuole solo la fede altro modo di internere questa espressione contiene realmente questa è la parola chiave della teologia cattolica realmente corpo sangue anima e divinità che sono presenti tutte e quattro in ciascuna specie sia nel pane consagrato che nel vino consagrato e frammento di esso o goccia di essa anche minima purché si ritiene correttamente visibile ad occhio umano occhio umano non vuol dire che per esempio anche come dire per vedere in frammento per esempio sulla patena si vede benissimo perché la patena è d'oro magari se il frammento rimane sul corporale non si vede con gli occhi però ad uno sguardo attento lo vedi qual è la materia dell'eucaristia la materia dell'eucaristia è il pane di frumento e il vino di uva qual è la forma dell'eucaristia lo sappiamo le parole della consagrazione quelle essenziali questo è il mio corpo questo è il carice del mio sangue sparso per voi e per molti l'emissione dei peccati chi è ministro dell'eucaristia questi sono numeri abbastanza semplici il ministro dell'eucaristia è il sacerdote il quale pronunziando nella messa le parole di Gesù Cristo cambia il pane nel corpo e il vino nel sangue di lui attenzione questa è la cosa fondamentale ed essenziale qui mi devo permettere un attimo di fermarmi perché le stupidaggini che vanno in giro adesso sono grosse quanto il fumo allora la cosa essenziale perché ci sia l'eucaristia e quindi perché ci sia la messa è che un sacerdote è validamente ordinato nella chiesa cattolica quando celebra la messa pronunci correttamente le parole della consagrazione ovviamente avendo l'intenzione di fare ciò che fa la chiesa intenzione che è ordinariamente presunta basta qualunque cosa abbia fatto se sta in peccato se non sta in peccato se ce la colvesco o non ce la colvesco se ce la colpato o non ce la colpato sono cose irrilevanti ai fini della validità della consagrazione e della messa sono cose che eventualmente gravano solo sulla coscienza del celebrante che avendo certe disposizioni pecca mortalmente quindi non dovrebbe fare quello che fa ma il sacramento non è toccato e la validità della messa non è toccata stesso discorso se mi si consente perché io queste cose le devo dire da sacerdote no ora io personalmente non ho mai nascosto cioè chi mi conosce lo sa una predilezione grande per la messa antica è più bella è più profonda è più ricca ha un significato che si avvicina moltissimo al dogma tutto quello che volete d'accordo tutto è stata fatta la riforma liturgica e adesso c'è la messa riformata la messa riformata è messa quindi non è un qualche cosa che non è non è più valido poi per quanto riguarda il contorno quindi la fruttuosità l'efficacia santificante eccetera eccetera di questo certamente si può discutere però specialmente adesso che le condizioni che ci sono delle restrizioni per quanto riguarda la celebrazione in vetro sordo una persona che dovesse decidere di non andare a messa perché non c'è una messa in vetro sordo fa una stupidaggine è vero che oggi ci stanno altri problemi di altro genere ahimè come diceva buonanima di benedetto sedicesimo abusi liturgici al limite del sopportabile quindi che uno va messa pure se la messa è valida gli viene il mal di panza è un problema reale io dico alle persone dico va bene ok però cerca qualcosa di decente perché almeno a quello che a me risulta non è che siamo proprio ridotti che siamo in un mare magnum assoluto ci sono celebrazioni belle dignitose alcune anche edificanti si sono celebrate con una buona arte celebrandi quindi se tu ti trovi in condizioni che gira vai e se devi fare un pochino di fatica e se non lo vuoi fare ti metti a fare gli atti di riparazione chiudi gli occhi assisti alla messa ti fai la comunione e assisti alla messa e fai la tua comunione capite cioè il distanziarsi sacramentale a meno che non ci siano delle condizioni proprio del tutto straordinarie non è mai di per sé la cosa buona o opportuna da fare a meno che non ci siano delle circostanze ben precise poi ne parleremo quando arriviamo alla comunione che è il terzo paragrafo sicuramente non oggi perché ci sono qui altri problemi attuali che tutti conoscono quando Gesù Cristo istituì l'eucaristia Gesù Cristo istituì l'eucaristia nell'ultima cena distribuì agli apostoli come corpo e sangue suo comandando che poi facessero altrettanto in sua memoria una notazione su questo numero che serve per respingere tuttanto una serie di sciocchezze che oggi circolano all'ultima cena erano presenti solo i dodici apostoli Giuda compreso che durante la messa l'unica messa che noi sappiamo l'unica messa sacramento celebrata da Gesù perché poi Gesù la messa ha celebrato la messa è il sacrificio del Calvario la messa l'ha celebrata in persona in forma cruenta al giorno dopo quella è la messa e questo poteva farlo soltanto lui noi possiamo celebrare la messa in forza dell'ordine sacro ma in croce poteva andare soltanto lui poteva farlo solo lui quindi la messa è stata l'unica a celebrarla il giorno prima è stata l'unica a celebrarla con la C maiuscola ma nel Cenacolo c'erano i dodici apostoli fate questo in memoria di me insegna il concilio di Trento sulla scorta di San Tommaso d'Aquino è stato contestualmente il mandato di fare questa cosa agli apostoli che contestualmente sono stati ordinati i vescovi tutti quanti Giuda compreso Giuda ha tradito Gesù ha consegnato Gesù ed è morto da vescovo quindi non ci stupiamo non è che l'ordine episcopale preserva dal tradimento è falso per i dodici è falso per Giuda così come non è che il battesimo preserva dall'inferno non preserva dall'inferno preserva dall'inferno se tu vivi in maniera conforme alla grazia battesimale se no all'inferno ci va prima degli altri e quindi per esempio prendete e mangiate tutti l'ha detto agli apostoli attenzione prendete cioè prendetelo con le mani l'ha detto agli apostoli non l'ha detto a tutti e mangiate ne tutti cioè che tutti devono fare la comunione l'ha detto agli apostoli perché come vedremo il celebrante non può non fare la comunione ma sulla base di queste parole specialmente negli ultimi 60 anni ha la comunione in mano e che ha detto Gesù ha detto prendete ha detto prendete quindi che dicono che la comunione sulla lingua Gesù ha detto prendete è sua volontà che sia preso hanno detto questo ma nel cenacolo c'erano gli apostoli c'era nessun altro non c'era manco la madonna nel cenacolo non ha detto Gesù alla madonna prendete e mangiate manco alla madonna e secondo tutti avete visto che ha detto Gesù mangiatene tutti quindi state a dare retta venite tutti a fare la comunione non vi preoccupate perché ha detto che dobbiamo mangiarne tutti quindi se non ti fai la comunione che razza di messa è vieni vieni a fare la comunione ma mi devo confessare non fa niente non fa niente vieni vieni tutti hai riferito sempre a dodici apostoli non a tutti quelli che assistono alla messa che se tutti stanno in condizione di potersi comunicare viva Dio magari non bisogna stare in grazia per comunicarsi 321 perché Gesù Cristo istituì l'Eucaristia Gesù Cristo istituì l'Eucaristia perché fosse nella messa il sacrificio permanente del Nuovo Testamento e nella comunione il cibo delle anime a perpetuo ricordo del suo amore e della sua passione in morte i fini principali nella messa il sacrificio permanente del Nuovo Testamento uno solo è il sacrificio il sacrificio eucaristico che dovrebbe come si spera ancora sia salire incessantemente al cielo perché adesso che il Vangelo sta da per tutti sta da per tutto con tutti quanti i fusi orari ci stanno ancora 400.000 rotti preti in giro sperando che tutti celebrino tutti i giorni non dovrebbe esserci interruzione dovrebbe esserci un'elevazione continua di questo sacrificio al padre e poi nella comunione cibo delle anime l'anima ha un nutrimento come c'era il corpo è l'eucaristia e poi attraverso l'eucaristia ci ricordiamo continuamente e questo accade anche quando siamo dinanzi a Gesù eucaristia che è l'ultimo aspetto del suo amore della sua passione e della sua morte della sua passione e morte soprattutto quando si è ammessa del suo amore quando stiamo dinanzi a Gesù sacramentato ora apriamo il capitolo 2 che è la presenza reale di Gesù nell'eucaristia tema proprio cattolicissimo questo qui tema su cui c'è stato fatto parte del concilio di Trento tema su cui nel corso della storia ci sono state tante di quelle eresie che ahimè perché uno scoglio non è facile crederci allora nell'eucaristia 322 c'è lo stesso Gesù Cristo che è in cielo e che nacque in terra da Maria Vergine che rispondereste voi o lo stesso è la risposta la risposta è semplicissima ed è che nell'eucaristia c'è lo stesso Gesù Cristo che è in cielo e che nacque in terra da Maria Vergine lo stesso solo che il miracolo che accade nell'eucaristia è che cosa che è impossibile è che la sostanza della sua persona non appare attraverso gli accidenti propri perché la sostanza del verbo incarnato ok si manifesta esternamente almeno attraverso le sue fattezze naturali nell'eucaristia non si manifesta in questo modo cioè si manifesta o meglio sta nascosta dietro degli accidenti di una sostanza che non c'è più che è il pane e il vino e che copre la sostanza corpo di Cristo e sangue di Cristo ossia per concomitanza tutta la sua persona lo stesso che è in cielo e che nacque da Maria Vergine e qui figlioli miei cari ognuno di uno deve dire nel cuore ma io ci credo senza dubbio alcuno a questa cosa interroghiamo il nostro cuore cioè questa è una verità oggettiva che tu ci credi o non ci credi questo è e questo resta però se tu ci credi cambia il tuo modo di relazionarti con Gesù nell'Eucaristia una persona che ha una fede autentica nell'Eucaristia per me questo è così poi può essere che mi sbaglio ma come fa a non andare a messa tutte le volte che può come fa a non andare almeno qualche volta a trovare Gesù nel tabernato come fa a non fare la comunione più spesso che fa e a farla come Dio comanda cioè ma se te venisse davanti domine Dio nostro signore ma tu che fai che fai gli dai la pacchetta sulle spalle gli dici ciao a domine Dio gli faresti così 323 perché credete voi che Gesù Cristo è veramente nell'Eucaristia risposta credo che Gesù Cristo è veramente nell'Eucaristia perché egli stesso disse usando il verbo essere corpo e sangue suo il pane e il vino consacrato cioè quando Santo Maso d'Aquino studia l'Eucaristia dice che nell'ultima cena Gesù ha detto prendete e mangiate questo è il mio corpo verbo essere noi dobbiamo essere sempre molto cauti quando usiamo il verbo essere cioè solamente quando diamo giudizi quello è così è meglio dire quello sembra che sia così appare così è quello che io percepisco ma che ne sai quello come dentro che ne sai che pensa una persona noi non riusciamo a capire neanche è fonte di grande sofferenza noi non sappiamo neanche i pensieri profondi delle persone che amiamo vediamo delle cose esterne ma che cosa pensa realmente una persona che cosa pensa una persona realmente di me io non lo so lo posso vedere posso ascoltare le cose che dice ma il cuore io non lo vedo non lo so quindi come faccio a usare il verbo essere dice ma quella persona mi ama mi sembra che quella persona mi ami cioè a meno che non ha doppia vita non ha schizofrenica non c'è secondi fini ce la sa mai perché sapete cioè l'amore che sia tra devo dire tra virgolette anche se non ci dovrebbero servire però tocca metterle perché generalmente si intende un'altra cosa l'amore che sia verso l'amore di Dio è un amore tra virgolette tra virgolette santo no ma non possiamo usare il verbo essere con troppa leggerezza ma se se colui che è la parola di Dio il verbo penso che non debba prendere lezioni di come si usa la sintassi di una di una lingua no se dice est in greco est non fai netai non questo appare non questo rappresenta non questo simboleggia ha usato il verbo essere quindi quindi quel pane è il suo corpo quel vino è il suo sangue poi la teologia ci si è messa a pensare dice allora come mai che si sente ancora il sapore del pane e del vino e San Tommaso come vedremo ha cercato di spiegare quello che si può comprendere ma rimane un mistero finisco la lettura del numero egli stesso disse corpo e sangue suo il pane e il vino consacrato e perché così ci insegna la chiesa ma è un mistero è grande mistero non c'è nessuno che possa penetrare questo mistero nessuno gli angeli qualche cosa pare che ci raccapezzano perché non mi ricordo dove ho letto ma su fonti autorevoli che gli angeli anche i nostri angeli custodi lo vedono Gesù presente nell'ostia noi no noi uomo che cosa è l'ostia prima della consagrazione 324 l'ostia prima della consagrazione è pane dopo la consagrazione che cosa è l'ostia dopo la consagrazione l'ostia è il vero corpo del nostro signore Gesù Cristo sotto le apparenze del pane chiaro apparenze e nel calice prima della consagrazione cosa si contiene prima della consagrazione 326 si contiene vino con alcune docce d'acqua e dopo la consagrazione che c'è nel calice nel calice dopo la consagrazione c'è il vero sangue del nostro signore Gesù Cristo sotto le apparenze del vino e quando diventano 328 corpo e sangue di Gesù il pane e il vino al momento della consagrazione oh e quindi almeno al momento della consagrazione siamo quasi in in dirittura finale si fermiamoci qui e riprendiamo dal 329 che si aprono altri argomenti abbastanza delicati è chiaro che al momento della consagrazione essendo un momento in cui c'è questa trasformazione che la chiesa come vedremo chiama transustanziazione ci deve essere un silenzio assoluto e si deve stare tutti in ginocchio in adorazione chi sta in piedi durante la consagrazione pecca mortalmente a meno che non ci abbia una motivazione valida non è un peccaturo nel nome di Gesù ogni ginocchio si piega in cielo sulla terra e sotto terra e continua a vedere nella parrocchia dove stavo dopo dieci anni c'ero quasi riuscito a vedere praticamente tutti in ginocchio qui ancora te vedo gli stoccafissi che stanno in piedi spero che ci abbiano qualche protesi alla alla gamba perché passeranno i guai se continuano a fare così perché non è che non gli io l'ho detto in tutte le lingue e mica una volta sola come ti permetti davanti a Dio di stare in piedi come ti permetti non ti puoi umiliare ma ti devi mettere sotto terra i diavoli ho già detto altre volte prendono in giro gli esseri umani perché quando Gesù va all'inferno e li costringe a inginocchiarsi loro stanno tutti in ginocchio eppure se stanno costretti poi si fanno beffa dei mortali noi ci inginocchiamo e voi no veramente inqualificabile d'accordo riprendiamo da qui la prossima volta stiamo a buon punto e alla prossima puntata Dio vi benedica e alla Santa Vergine sempre vi proteggo